Salve gente, finalmente è arrivato il giorno della sfida tra me e Mike. Anche se non so perché ci ha messo tanto, visto che questo videogame non sarebbe niente senza di me. Comunque vi prometto che non gli farò troppo male. Forse. Ok, pronti? Ok, cominciano a essere difficili gli scontri. Devo giocare seriamente. Oh 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 oh! Stavaro peggio Pensi di avermi battuto Ma non stavo combattendo al massimo del mio potere Adesso ti mostrerò la mia vera forza Sono decisamente scelto Ok Va benissimo fermarsi qui E stavolta mi hai riempito di mazzate Rompiamo le regole il più possibile Con qualcosa che costa 4 Cosa? Sta succedendo qualcosa? Rompiamo le regole il mio potere Sopraccarico Qual è la conseguenza del sovraccarico? C'è per forza un malus! C'è per forza un malus! C'è per forza un malus! È stato un bellissimo scontro, ma ti ho lasciato vincere, solo perché il canale YouTube è tuo! C'è per forza un malus! È stato un malus! È stato un malus! È stato un malus!